Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli straccetti di pollo cremosi con funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono olio evo, aglio, funghi misti, sale, pepe, straccetti di pollo infarinati, burro, timo, panna da cucina, prezzemolo e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio. Ed azionare il bibi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere i funghi, il sale e il pepe. Ed azionare il bibi per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere il timo ed il burro. ed azionare il bibi per 2 minuti, 100 gradi, velocità 1. mettere il boccale, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. aggiungere i funghi, la panna e la noce moscata e cuocere per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. gli straccetti di pollo sono cotti, impiattare e servire, spolverizzando con il prezzemolo tritato. straccetti di pollo cremosi con funghi. grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti. 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 grazie a tutti.